Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 17 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno? Con un pizzico di fortuna le finanze tornano su. Finanze ai minimi storici? Così continuerete a lamentare a tempo indeterminato, almeno finché la rissa tra i due capi di Stato, alias la Luna e Plutone, causa dei guai attuali, non si saranno risolti. Se poi ci mettete l'acquisto indiscriminato, orientato su articoli di altro profilo, vi inquietate ancora di più. Inutile sperare di cambiare la situazione, non subito almeno, con il ricco signore degli inferi che vi porge la carta di credito, non la sua, la vostra. Punto. Promettente invece Urano, che gli dà battaglia con una quadratura, rompendo il salvadanaio potrebbe saltar fuori qualche bel bigliettone, alternativa a una piccola vincita, comunque incoraggiante. Finalmente arrivano notizie positive e piccoli vantaggi a vostro favore. Superamento di piccole difficoltà e superamento di ostacoli. Occasioni di incontri nuovi con persone interessanti e motivate quanto se non più di voi al successo. Fate buon viso a cattivo gioco e perdonate tutto ciò che subirete oggi. Vi conviene. Percorrete strade alternative per raggiungere uno scopo prefissato, Marte vi renderà un po' nervosi anche se in serata riuscirete ad avere un po' di relax e di tranquillità. Aprite gli occhi su alcune persone che vi circondano e il cui unico scopo è carpirvi confidenze per poi spettegolare in giro e criticare perfino il vostro punto di vista. Mantenete a distanza gli importuni particolarmente oggi. Se il vostro partner oggi si mostra freddo e distaccato non date motivo di acuire le sue tensioni protestando o, peggio ancora, mostrandovi petulanti e polemiche. Piuttosto cercate di intuire le ragioni e fate in modo che possa trovare il necessario sollievo nelle questioni relative. Datti da fare. Potrai raggiungere ottimi risultati se ti concentrerai. Qualche lieve difficoltà nel lavoro. Fatti consigliare da qualcuno del segno della Vergine non trascurare salute e aspetto fisico. Fai una dieta disintossicante. Sentirai bisogno di pace e di silenzio. Vai in un posto tranquillo. Rinviate acquisti e spese non necessari, un po' di sana economia farà bene, soprattutto alle vostre finanze. Avrai grandi occasioni per alimentare le tue entrate e soprattutto se sei nel settore del commercio dovrai comunque fare attenzione a non accettare alcun compromesso. Sarai loquace, socievole e affascinante. Eccellente intesa con gemelli. Plutone in seconda casa è un invito sicuro al risparmio contro le tentazioni all'acquisto di lusso volute dalla luna in leone che gli si oppone. Vanamente però, col vostro carattere economo di sicuro non svaleggerete la boutique, le spese pazze piuttosto le farete in libri, il denaro devoluto alla cultura è sempre ben speso. Amore ed Eros In barba al vostro carattere chiuso e diffidente, sempre corazzato nei confronti della freccia di cupido, qualcosa nel vostro ghiaccio si sta smuovendo e il merito è tutto di una persona imprevedibile, divertente, interiormente giovane che, chissà come, è riuscita a far breccia. Intanto il desiderio si sta facendo strada dentro di voi e chissà che prima o poi una bella storia d'amore, finora negata, non possa finalmente prendere piede regalandovi tutta quella felicità che vi meritate ma che siete i primi a non voler afferrare. Motivo Semplice paura di non essere all'altezza e di non saperla gestire Prima di concedere troppo di voi all'altro, cercate le medesime attenzioni anche per voi stessi. Il partner pare instancabile con le sue richieste, ma non sembra compensare con il giusto interesse verso di voi. Lavoro e denaro Pochi soldi da spendere, ma questa non è una novità, i vostri figli vi costano un botto, inoltre il lavoro che aveva appena ripreso a carburare a tratti subisce battute d'arresto. Per il momento andrà già bene mantenersi in bilico, per il futuro telefonate a Mago Merlino, che vi darà indicazioni più precise. L'essenziale è non abbattersi mai, dai sogni ricaverete input e consigli preziosi. Dovrete essere bravi nel manovrare le situazioni così da volgerle a vostro favore. Sarà una giornata positiva per quanti hanno un'attività artigianale e la carta vincente sarà la capacità di interagire con gli altri. Benessere Salute perfetta, meno male con tutto questo carico di lavoro se almeno l'energia psicofisica gira bene si può anche sperare di farcela. Dopo un test clinico che vi ha mandato in fibrillazione avrete il piacere di vedere con i vostri occhi che il risultato è incoraggiante, siete sani come pesci anche se siete del capricorno. Unico punto dolente la dentatura da curare minuiziosamente spazzolandola dopo ogni pasto, anche fuori casa. Anche se ci sono numerose incombenze da sbrigare, provate a terminare un lavoro che avevate in sospeso. Ne gioverà lo spirito in quanto oggi amerete sentirvi importanti, utili e pronti all'intervento. Per lei, un gran brutto sogno che vi fa svegliare sudate e stonate, ma una volta preso atto che si trattava di una trama onirica e non della realtà, tornate a sentirvi sicure godendovi la luce dell'alba che filtra dalla tapparella. Per lui, coi tempi che corrono le risorse non sono granché, almeno quelle materiali, ma in fatto di volontà, intelligenza, creatività, non avete nulla di cui lamentarvi. E allora sentitevi ricchi? Colore delle emozioni, cedro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 8. Beneessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.